SANTUARIUM Santuarium è sempre stata intrappolata nell'eterno conflitto. Una guerra tra angeli e demoni. Ma Lilith non è coinvolta. È stata bandita millenni fa, ma questo mondo è opera sua. Figli miei, i signori degli inferi vengono a divorare il nostro mondo. Gli inferi... ...arriveranno. Non cedete alla sua tempestà! Non sono qui per salvare, ma per dare potere. Ti darò la libertà. E non solo. Nel suo sacro nome, noi combatteremo. L'ora della profezia è giunta, Cavaliere. Marceremo sugli inferi. Contemplate l'opera della vostra fede! SANTUARIUM Le vostre vite, insieme a quelle dell'umanità intera, dipendono da ciò che farete adesso. Se non fermiamo Lilith, siamo tutti condannati. Una maggiore di sottosità. Ho stretti. C'è sempre meglio, sono tutti i nostri amici, possoまた andare a... ...lo cal H. Grazie a tutti